Musica Amici di Attisport24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallannuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi l'allenatore della formazione maschile della pallannuoto Trieste, Daniele Bettini. Ciao Daniele, bentornato, grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere, ciao Andrea. Allora, Final 8 di Champions League, giornata dedicata ai quarti di finale, l'Italia porta due squadre in semifinale. Io ti chiedo, quale significato assume questo risultato per il movimento pallannutistico italiano? Beh, si sa che adesso l'Italia è forte, abbiamo, a parte a livello come nazionale, siamo una nazionale super quotatissima, ma anche a livello di club stiamo crescendo, non c'è più solo Recco, ma abbiamo visto che in Champions c'è un grande Brescia, grandissimo Brescia, e l'Ortigia ha rischiato di fare anche lei l'accesso alla Final 8. Quindi stiamo crescendo anche come squadre. Stiamo tornando ai tempi in cui io mi ricordo di una Final Four dove c'era Hug, Recco, Posillipo e Savona. Quindi ci stiamo arrivando. Piano piano. La Pro Recco liquida senza eccessivi patemi la pratica a Nover. Come valuti la prova dei Liguri? Erano attesi comunque al primo test ufficiale dopo la sconfitta in campionato? Allora, il Recco è il Recco. Il Recco è la squadra da battere, probabilmente la più forte, però penso che abbia preso una bella facciata quando si è visto scippare lo scudetto dal Brescia. Ho visto un Recco non così tranquillo, non così convinto. Hanno fatto errori banali, ma anche errori di poca tranquillità. All'inizio soprattutto ho visto tanti palloni scappare, ho visto tante conclusioni mancate. Poi il quarto tempo si è visto il vero Recco, dove un devastante Ivovic, un gioco molto più organizzato, molto più efficace. Quindi ci ha messo un po' a togliersi le scorie di dosso della finale scudetto. Quanto, in quali aspetti, può ancora migliorare il suo rendimento, la formazione allenata da Hernandez in vista dei due match che poi decideranno l'assegnazione del titolo? Beh, deve migliorare sotto tutti i punti di vista. Recco deve essere più cinico, deve fare un uomo in più diverso da quello che si è visto oggi. Un uomo in meno, molto più aggressivo, dove non lascia scampo, dove è abituato a non lasciare scampo agli avversari, invece è troppo passivo, troppe distrazioni. Il Recco ha un potenziale cento volte superiore e non è tanto lontano dal poterlo buttare in acqua. Il problema è che, sono convinto, abbia perso un po' di sicurezza. Di sicurezza nei suoi mezzi, nelle sue possibilità enormi che ha a disposizione. A prescindere che sia Barceloneta o Olympiacos l'avversario, che semifinale sarà quella di domani? Beh, si parla di una semifinale di Coppa dei Campioni. Stiamo parlando del top, del top. Quindi mi aspetto una semifinale combattuta, mi aspetto una semifinale dove andrà avanti solo chi sbaglia poco, chi ha più tranquillità e chi ha anche la forza di arrivare negli ultimi due minuti della partita e saper gestire i palloni, quelli che pesano. Al termine di un'autentica battaglia nel match delle 18, il Brescia regola 12-10 lo Juve e, per la prima volta nella sua storia, accede alla top 4 del massimo torneo continentale europeo. Che partita è stata quella dei ragazzi di Boco? Beh, è una partita stupenda, veramente una partita stupenda. Il Brescia sta dimostrando giorno dopo giorno, partita dopo partita, che ha la consapevolezza dei suoi mezzi, si vede, ha la tranquillità e la forza di saperli buttare in acqua, ma soprattutto ha una fame esagerata che sta mettendo in luce tutti i pregi e le caratteristiche della squadra di Boco. Qual è stata la chiave del successo odierno? Chiavi di lettura ce ne sono un centinaio sicuramente. La principale? Dai, la metto così. Mi piace pensare che la differenza l'abbia fatta che il Brescia ha vinto lo Scudetto e lo Juve invece ha perso con l'Amlados il titolo croato. Un po' di scoglie l'ho vista anche nello Juve e invece ho visto un Brescia che ha fatto errori sicuramente, ha giocato però una gran bella pallanuoto difensivamente parlando, ha giocato con ritmo e soprattutto è stata cinica in maniera esagerata perché ha avuto anche l'occasione per chiuderla come l'occasione per invece fargli entrare in partita. Mi ricordo un 1 contro 0 di Fatovic parato da Dellungo che quello poteva riaprire completamente la partita. Poi sono andati due gol sopra e sono stati bravi a gestire fino all'ultimo secondo e mi piace anche guardare a livello proprio statistico. Brescia ha fatto due gol dal centro con Nicolaidis, con Lasic e dall'altra parte invece no. Quindi una bella partita, veramente godibile e entusiasmante. Quali step di crescita possono fare i Leoni in vista dell'incrocio col Ferenkvaros di domani? Beh io credo che il Brescia stia crescendo, come ti ho detto, partita dopo partita, minuto dopo minuto. Si sente sicuramente l'assenza di somma ma non ci fanno caso, vanno avanti, giocano sempre meglio, sempre più intenso. Vlacopoulos sta tornando ai livelli di inizio stagione che era immarcabile e fenomenale. Stanno macinando e macinano forte. Domani la semifinale col Ferenkvaros, formazione battuta già due volte in stagione regolare, però io prima mi sono trovato a commentare la partita e ho fatto questa previsione. La musica sarà sicuramente diversa rispetto ai due precedenti incroci, quindi io chiedo a un tecnico della tua esperienza. Domani che cosa cambierà rispetto alle due partite nelle quali poi il Brescia ha battuto i Maggiari? Credo che non ci sarà il tempo di ripensare alle partite precedenti, credo che farà storia a sé, credo che il Ferenkvaros stia giocando bene, l'ho visto oggi e mi è piaciuto, mi è piaciuto in tante parti, ha ancora sicuramente anche loro tanti vantaggi ancora da sfruttare, ha ancora tante caratteristiche che ancora sono sopite, ma l'ho visto in crescita rispetto alle ultime volte che avevo visto. Anche loro hanno perso il titolo, anche loro, anzi loro l'hanno perso in semifinale, quindi secondo me il Brescia ha la possibilità di continuare la sua crescita e il Ferenkvaros avrà paura di questo Brescia. E voglio chiudere la nostra chiacchierata con un'ultima domanda, se devi individuare due, massimo tre fattori, che potranno essere decisivi in questa sfida, su quali vai a puntare? Del Lungo, il primo che mi viene in mente, mi sta piacendo tantissimo, sta veramente facendo la differenza. La fame del Brescia, non si placa, non gli è bastato vincere lo scudetto, vuole di più e si vede da come giocano e da come affrontano le partite. E basta, direi. Queste sono quelle che mi saltano immediatamente in testa. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Daniele Bettini per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Daniele, grazie. Ciao Andrea, grazie a tutti. Ciao. Ciao.